Cavarei è un'impresa sociale, la prima nel territorio forlivese dopo la riforma del terzo settore. Si occupa di disabilità e di integrazione nel territorio. Attraverso il lavoro cerca di restituire dignità alle persone. Abbiamo centri socio-occupazionali all'interno appunto dei quali possiamo applicare i contratti di inserimento lavorativo, quindi un centro stampa, il lapis, un tocco d'artista, il negozio artigianale e la moderna officina digitale Cavarei Lab con una macchina per il taglio laser e una stampante 3D. Oltre all'aspetto produttivo Cavarei si occupa di cura e di bellezza per le persone disabili. Abbiamo un centro socio-riabilitativo e centri residenziali. Questo si traduce con oltre 130 famiglie che si rivolgono a Cavarei per la gestione quotidiana del proprio familiare disabile. Cavarei anche nei propri spazi è stata studiata per essere aperta alla città e alla comunità per un continuo scambio di stimoli come lo è stato questo progetto con Doreland e con l'Istituto Safi Alberti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.